Presente in più di 50 paesi, Gruppo Gimoca è oggi una realtà imprenditoriale che si attesta tra le prime torrefazioni italiane. Tradizione, qualità di prodotto e di processo, know-how e tecnologia all'avanguardia contraddistinguono il nostro lavoro. I nostri caffè provengono da tutto il mondo, Centro e Sud America, Africa e Asia. Intervenendo direttamente sulla piantagione, il nostro team di assaggiatori qualificati è in grado di selezionare le materie prime di altissimo livello. I sistemi di tracciabilità, verifica del colore, umidità e crivellatura dei chicchi permettono di esprimere al meglio le potenzialità e la qualità di ogni caffè. Le singole tipologie di caffè vengono miscelate ad hoc, sviluppando blend dai profili sensoriali ricercati, in linea con le richieste del mercato e dei nostri clienti. Il gruppo Gimoca è il leader nella realizzazione di progetti di private label, grazie ad un team R&D specializzato nel soddisfare le specifiche richieste provenienti da clienti di tutto il mondo. Il team lavora per replicare prodotti esistenti o sviluppare nuove referenze basate su profili organolettici richiesti. Il caffè verde, una volta arrivato nella nostra sede, subisce un trattamento per la preparazione che si articola in quattro fasi. I chicchi vengono separati dalle impurità con un separatore a vibrazione. La cascata di caffè verde viene attraversata da un getto d'aria che separa il caffè da altri elementi più leggeri e di minore densità. Un rullo magnetico separa il verde dal materiale ferroso in modo automatico e continuo. La pulitura viene infine completata da un selezionatore ottico Sortex S UltraVision che rileva anche i più piccoli difetti di forma e di colore. In seguito, la tostatura del caffè verde, appena lavorato, viene effettuata tramite due tecnologie differenti. Il sistema Neuhaus Neotech, tra i più grandi impianti di tostatura al mondo in grado di produrre fino a 5.000 kg all'ora. Questo impianto, che combina consumi ed emissioni ridotte, assicura una qualità elevatissima per via della tostatura uniforme ottenuta con un sistema a letto fluido in cui il caffè verde viene avvolto da un getto d'aria calda. Inoltre, è estremamente versatile e si adatta alle varie esigenze produttive dei clienti private label. Per alcuni prodotti, la tostatura viene effettuata mediante l'utilizzo di tostatrice a tamburo dotate di cilindro rotante. Questa tecnologia, più diffusa e maggiormente conosciuta in Italia, è caratterizzata da una tostatura più lenta. Grazie ai processi di selezione, approvvigionamento, trattamento e tostatura, il caffè è quindi pronto per essere destinato alla divisione grani e macinato o a quella del porzionato. Il caffè viene quindi diretto al confezionamento tramite un sistema di trasporto pneumatico. La divisione grani e macinato è dotata di numerose linee che permettono di confezionare il prodotto in vari formati da 100 grammi a 3 kg, in lattine o confezioni sotto vuoto o non, con saldatura centrale, ai quattro angoli e con tintai, oltre alla classica pinna. La divisione porzionato di Gruppo Gimoca conta un know-how e un assetto industriale all'avanguardia per tecnologia di confezionamento della capsula e packaging. Il caffè viene inizialmente macinato con un sistema di macinini multistadio che consente di ottenere la granulometria desiderata per l'incapsulamento. Successivamente, se la tipologia di capsula lo richiede, il caffè viene trasferito in silos per essere degasato per un tempo determinato dalla miscela e dal tipo di erogazione desiderata. La divisione dispone di impianti di confezionamento di capsule compatibili con i più diffusi sistemi per uso domestico a livello mondiale, uso professionale e di alcuni sistemi chiusi. Crediamo nella qualità, nella sicurezza alimentare e nella sostenibilità. per offrirvi sempre un caffè preparato a regola d'arte. Gruppo Gimoca, il nostro istinto per il caffè, il vostro amore per il gusto. Gruppo Gimli